Che ne pensi della civiltà occidentale, dall'antichità fino ad oggi, del peso che ha avuto e l'influenza sulle altre civiltà, figlio di Dio, potete anche risparmiarti? Allora, io posso darvi una risposta da liceo classico, praticamente, perché se parliamo dell'antichità, come primo punto, a me viene in mente principalmente la Grecia e Roma. E al tempo la prima colonna portante della civiltà occidentale è stato l'elenismo, lo stile di vita, il modo di approcciarsi a questioni, alla cultura, alla religione, ma anche appunto alla vita sociale, sostanzialmente. La seconda colonna portante è stata la cristianità, anzi il cristianesimo, oppure se vogliamo essere proprio più pignoli la Bibbia e la Chiesa. La quale Bibbia, la quale Chiesa, la quale tradizione cristiana non sono autogenerate, chiaramente, ma hanno, diciamo, preso dall'elenismo, guarda un po'. Non preso e trasposto, ma preso e ribaltato, in un certo senso. Voi pensate che quando si parla dello spirito Apollinio e lo spirito Dionisiaco di Nice, si intendono appunto le due correnti che andavano per la maggiore in Grecia. L'Apollinio, appunto la perfezione, l'armonia, l'equilibrio, ecco, e poi il Dionisiaco tutto il contrario, cioè, non so, la danza selvaggia anziché la danza armonica. L'ebbrezza, il casino, una delle influenze culturali più grandi in Grecia ha stato il teatro. E in particolare la tragedia. È nata prima la tragedia, infatti. Lo stesso nome tragedia, cioè tragodia, significa canto in onore del capro, della capra. Guarda un po', la capra, l'animale sacro a Dioniso, esattamente, lo spirito Dionisiaco anche quello. Il libertinaggio e la sfrenatezza che deriva dello spirito Dionisiaco è stato preso e ribaltato perché la cristianità doveva essere, doveva rappresentare il contrario di questa cosa. Non necessariamente lo spirito Apollinio, ma necessariamente il contrario del Dionisiaco. E guarda un po', la figura del malvagio, del cattivo, del demone, del maledetto, alias Satana, veniva rappresentato, anzi viene tuttora rappresentato, con forme caprine. Con quella barba, le corna, anche gli zoccoli e la coda, da capra. Il diavolo cristiano non è altro che il capro Dionisiaco. Ma mentre la grecità, chiamiamola così, era libera, era espansiva, la cristianità era molto più chiusa. Fare delle cose, vivere, non in funzione di se stessi, della società, eccetera, ma in funzione di Dio, e soprattutto non farsi domande. 1700 anni dopo stiamo così. Ma l'influenza della chiesa non si è del tutto fermata, o meglio, se poteva stare come sta più o meno adesso, all'inizio del 900, forse ora staremmo molto meglio, diciamo. Ma se in Italia la situazione è un po' più divisa, un po' più spaccata, e comunque ce ne abbiamo messo, da altre parti è comunque molto più sentita. Da altre parti la stessa radice di un'azione, di un'identità nazionale, è molto legata al cristianesimo. Pensate soltanto che gli americani su tutte le banconote hanno scritto In God We Trust. Tuttora la fede, la cristianità, il cristianesimo, Gesù, Dio, la Madonna e Giuseppe vengono utilizzati come scusa, o come standardo, praticamente, per portare avanti altri tipi di credi politici. Pensate a quello che sprologiava col Vangelo e con la Croce, quando onestamente tutto il suo programma è tutto fuorché Vangelo e Croce. Ma sto divagando. Cosa penso della civiltà occidentale, del peso che ha avuto l'influenza sulle altre civiltà, che sia stata più limitante che altro? Non conosco granché, non conosco bene le civiltà orientali, ma so che per molte ragioni sono un po' più espansivi di noi, o meglio, sono un po' più larghe. L'uccidente, sostanzialmente, è una tavola abbastanza grande su cui si può disegnare qualunque cosa, perché il materiale te lo permette, ma poco profonda. Al punto che non ci puoi dipingere troppe cose sopra, non puoi fare troppi errori sopra, altrimenti si buca. Cosa penso di Zeb89? Ma sostanzialmente che nei suoi dieci, anche un po' di più, anni su YouTube è passato dall'essere un meme, all'essere un creatore di contenuti anche valido, all'essere di nuovo un meme. All'inizio Zeb era diventato famoso perché era completamente eccessivo su alcune cose che veramente datti una calmata, i vari giochi di merda, il modo in cui si esprimeva, il modo attacca-brig che aveva di parlare di giochi, ma anche di persone che giocavano a quei giochi. Non mi scorderò mai, tipo, se giochi a Skyrim, o sei così, oppure sei così, che è cattivissimo, gli sproloqui, eccetera, eccetera. I meme che già all'inizio erano tutti, Lizzo, Lizzo, scusciola. Poi verso, tipo, non so, dopo il 2014, quando un po' di altra gente, un po' di gente che non lo seguiva soltanto perché era un meme, e ha cominciato a farsi vedere, stranamente proprio perché era uscito un altro meme suo. Mi pare che del 2014, eh, volevi. Mi pare che, vabbè, insomma. Da lì comunque ha cominciato a fare un po' più il serio, ha cominciato a fare delle live, in cui, cioè, si vedeva giocava anche abbastanza bene, e poi ha portato un tipo di, per un po' ha portato dei contenuti che si interfacciavano più nel retro gaming, per esempio riportava Crash Bandicoot, riportava Aladdin sull'emulatore. Faceva questi video lunghi, ma comunque editati bene, fatti bene, cioè si vedeva che ci teneva da quel punto di vista. Poi ha visto che le live andavano meglio, quindi le faceva su YouTube, le faceva almeno una volta alla settimana, poi ha detto mi trasferisco e basta su Twitch. Nonostante a più riprese su YouTube diceva, ma io non l'abbandonerò mai YouTube, YouTube mi ha dato i Natali, ho messo le radici su YouTube. E invece, ciao, ce lo siamo giocato. Magari continuava a ricaricare le live, non so se lo fa ancora, onestamente non me ne frega più nulla, ma è sulle live che è andato a cadere un'altra volta, perché proprio... Ma neanche adesso, già da un bel po' di tempo ha cominciato a fare il matto, a bannare chi gli pareva e piaceva, per motivazioni assurde. Cioè, avevo seguito per un po' la vicenda con, come si chiama, con Lubansky. E, non so, Zeb ci aveva a morte con lui perché lui non bannava uno che sapeva che era un po' chater. Quindi, no, vaffanculo, banni, trolli, eccetera, eccetera, quindi tenevi ad andare via. Ok, va bene. Ma più di recente è andato a fare ancora peggio, cioè ha detto no, ma adesso vorrei espandere, mi sa, è un po' espandere l'utenza. E quindi vuole parlare in inglese sul suo canale Twitch preesistente. La cosa più semplice, secondo noi, sarebbe stata creare un altro account in cui fai le stream soltanto in inglese, così eviti di costringere la tua utenza a scrivere soltanto in inglese. Ma diciamocelo, buona parte dell'utenza di Zeb non lo sa all'inglese. Quindi se tu mi dici no, la chat la riserviamo soltanto ai follower e soltanto a quelli che scrivo in inglese perché chiunque scrive qualcosa di italiano, chiunque faccia un riferimento a qualcosa tipo Arinza, Runza, Lezzo, eccetera, eccetera, viene bannato direttamente, vedi che il viewer count comincia a scendere molto, ma molto. Prima, le poche volte che accedevo su Twitch, vedevo che stava sempre in alto, si faceva pure i 4.000 spettatori a sera. Adesso ne fa 300. Ne fa una frazione di quelli che facevano, ne fa meno di un decimo. Zeb, in un certo senso, è l'esempio da non seguire per chiunque voglia tentare una carriera nella content creation. Cioè, se fai come Zeb, se ti comporti anche male con i tuoi stessi, non tanto con i tuoi stessi scritti, ma anche con quelli che ti fanno le donazioni, quelli che ti danno i sub. Zeb, ci sono un sacco di video al proposito, magari vi linko anche quei due o tre di Alistair, che ha fatto benissimo per riassumere un po' di cose su Zeb. Secondo te la vita prima di un artista intacca le sue opere, per esempio, si registra brevissimi e crea un film bellissimo? Risponderò con una domanda, so che è maleducato e non si fa, ma è divertente, vi rispondo con una domanda. Se vi faccio vedere un quadro carino, un acquarello, no? E mi dite che è carino. E poi io faccio, aha, questo quadro l'ha fatto Hitler! Voi che fate, vi lavate gli occhi con l'acido? Cioè, avete già detto che è carino, non potete ritrattare soltanto perché l'ha fatto Hitler. Ora, sembrerà una di quelle cose che dicono le persone. Cioè, Hitler so che era anche vegetariano e adesso noi diamo una connessione generalmente favorevole all'essere vegetariano, perché sai come l'industria della carne, ma tanto gli animali, gli effetti sulla carne rossa sul corpo, eccetera, eccetera. E soprattutto aveva fatto anche una campagna antifumo, credo, o qualcosa del genere. Il problema è tutto il resto! Però se dico, ok, sì, ha fatto una cosa bella perché la campagna antifumo è una cosa seria, è una cosa buona, era vegetariano quindi che ce l'avessi con l'industria della carne oppure che volessi soltanto bene agli animali, d'accordo, ci sta. Ma non sto dicendo che era una brava persona, no, no, mi dispiace, era un bravo pittore forse, ok? Non è stato ammesso alla scuola d'arte, guarda caso dopo gli anni 40 l'arte visuale è diventata tutta un'altra cosa, ma lasciamo perdere. Questo ormai è un meme che gira da tantissimo. Ma se valuto l'opera in sé, che sia un'opera visuale come il film, come il quadro, oppure un atto della persona, tipo appunto la campagna antifumo, non sto valutando la persona, sto valutando l'atto in sé. L'anno scorso di questi tempi, o anche prima, era uscito fuori che il director di Assassin's Creed Valhalla, tale Ashraf Ismail, se ne era andato via dal progetto, abbandonato il progetto quando comunque era già pronto, capirai, perché nella sua vita privata era fedifrago, quindi è stato un po' spinto ad andare via per non infangare le immagini del gioco, della compagnia, eccetera, eccetera. Ma se devo prendermela con qualcuno, me la prendo con Ashraf Ismail in sé, non con il lavoro che ha svolto come director su Valhalla. Che poi il lavoro che ha svolto sia penoso... no, stai, sto scherzando, poverino. Il massimo che può cambiare è sulla persona, su come appunto valuti la persona, ma non su quello che ha creato. Di recente poi ho rivisto un articolo, anzi una serie di articoli, che parlavano della gestazione disastrosa che ha avuto un gioco che doveva essere pubblicato da Focus Home Interactive, mi pare, nel cui sviluppo poi si è scoperto che chi stava a capo del progetto stava, non maltrattando di più, stava proprio massacrando gli sviluppatori che stavano normalmente lavorando lì, con deadline impensabili, con una retribuzione poco sopra alla paga minima. Che paga minima che noi in Italia non abbiamo, perché a discrezione del datore di lavoro con questo sia, ma in altri stati, per esempio in Ucraina, per dirvi a un certo punto, stava tipo sull'euro e mezzo. Un'ora, un'euro e mezzo, rendetevi conto, questa è la minimum wage, la paga minima. In molti stati americani, per esempio, sta tra i 7 e i 10 dollari. Pensate a pagare uno sviluppatore maltrattato, costretto al crunch, eccetera, 9 dollari all'ora. Maltrattamenti che poi includevano anche pressioni psicologiche pesanti, anche fisiche, perché sì, cioè, se costringe una persona a stare 16 ore, no, 16 ore forse no, ma stiamo liberi, lo assicuro, come tipo di abuso. Davanti a uno schermo, di certo, i suoi occhi e la sua sanità mentale ne risentono pure. Questo non toglie che magari se il gioco quando esce è buono, io non possa dire il gioco è bello, il gioco è fatto bene. Posso dire però che chiunque abbia fatto questa cosa agli sviluppatori non merita che io compri questo gioco. Ma onestamente neanche che io compri qualcos'altro che viene dallo stesso publisher, quindi sì. Sto facendo pubblicare, oh guarda, se adesso mi arriverà un season desist, mamma mia, il backlash. E poi come risposta finale, perché è finale l'evento live, lo dichiaro finito, sono riuscito a recuperare tutte le domande, poi si sono anche estinte, finalmente, aggiungo una cosa che mi è stata chiesta molto spesso, ma anche molto spesso su YouTube, soprattutto dopo che ho mostrato la mia bocca, mentre cantavo in greco. Il face reveal, quando mostro la faccia, quando faccio... la risposta è sperabilmente mai. Probabilmente l'ho già detta in qualche commento di risposta, rapido o non rapido, così. Quello che tengo a far passare io sono le mie idee, non la mia persona. Conoscere le mie fattezze non dovrebbe influire minimamente. E il fatto è che è un tipo di curiosità che per qualche ragione abbiamo molto più noi che altri. Ma soltanto perché si fa un clamore spaventoso sul face reveal. Sulla mostro la faccia, mi mostro davanti alla telecamera per la prima volta, che è soltanto sensazionalismo, secondo me. Per la stessa ragione non utilizzerò mai una facecam, ovviamente. Perché? Se nella vostra testa sta leggendo un... Perché? Ma lo fanno tutti. Così. Non avete capito lo scopo di questo canale, ho appena mollato uno schiaffo alla tastiera per nessuna ragione. E non avete capito lo scopo della mia attività su YouTube e su Internet. Mostrarmi in volto perché lo fanno anche gli altri non lo reputo assolutamente prioritario, interessante o semplicemente utile. Perché? Cioè, è meglio vedere la faccia del tipo che si spaventa per finta magari quando gioca ad Outlast. Ok, guardate la faccia del tipo che si spaventa quando gioca ad Outlast. Io porto un tipo di contenuto differente, non sento né il bisogno, né la voglia e nemmeno la pressione, francamente, di mostrare la mia faccia. Sono un'idea. Sono il vostro gran marnazzi di quartiere. Sono uno che non ha nulla da mostrare se non quello che crea. Quello che sono non è il mio volto, ma quello che viene da me. E con questa nota finale finisce anche l'evento live, domande interessanti. Non ci saranno più Q&A, forse. Anzi, un istante lo spero. Ma comunque, gli ho detto un po' di cose interessanti, no? No? Buona giornata, statemi bene e diffondete il verbo. Buona giornata, statemi bene e diffondete il verbo.